Conosciamo tutti i benefici di bere acqua calda e limone al mattino, vero? Ne ho parlato in questi due video. Noi lo facciamo tutte le mattine! Oggi voglio darvi una variante che farà piacere a tutti gli amanti delle spezie. Al mattino si può bere acqua tiepida, limone e un pizzico di curcuma. Etnico! E ha un sacco di benefici. Benefici di acqua calda, limone e curcuma al mattino. Benefici del limone. Il limone è un potente antiossidante perfetto al mattino per ristabilire il pH interno dei tessuti, risvegliare stomaco e intestino, dare energia. Benefici acqua tiepida. L'acqua tiepida, non calda, aiuta stomaco e intestino a riattivarsi e risveglia il metabolismo. Benefici curcuma. La curcuma è una spezia che ha tantissimi benefici. È antiossidante, antisettica, antibiotica, combatte i radicali liberi, aiuta il sistema immunitario, si usa contro disturbi infiammatori, dolori, artrite, per prevenire i disturbi del sistema gastrointestinale e proteggere il fegato. Come si prepara? Acqua, limone e curcuma. In un bicchiere di acqua tiepida aggiungere il succo di mezzo limone e un pizzico di curcuma. Ah, bisogna che aggiorniamo la ricetta allora! Ci si può regolare con le quantità in base al proprio gusto. Per chi soffre di reflusso o gastrite, secondo la Iurveda questa bevanda è molto benefica perché ha disturbi e infiammazioni di stomaco e intestino. Ma non brucia? Forse all'inizio può causare il bruciore se c'è già un'infiammazione interna, ma di solito la situazione non peggiora, anzi col tempo migliora. Ecco come fare. Si può iniziare con poche gocce di limone e un piccolo pizzico di curcuma e aumentare gradualmente, restando nelle dosi che non danno fastidio. Assumere acqua tiepida, limone e curcuma aiuta a lenire gli organi infiammati a patto di seguire un'alimentazione corretta, come dico sempre. Iniziare così di primo mattino è un vero boost per metabolismo, energia, vitalità e migliora la giornata fin dai primi minuti. Viviamo meglio con i rimedi naturali! In descrizione trovi link ai miei libri ed ebook. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale, il mio scopo è divulgare. Per saperne di più leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!